Tutte le cose, insomma tutti quegli affari, ma tutti siete anche dei bravi allenamenti. Allora volevo dire questo, che ringrazio naturalmente tutti, una squadra vincente per cui così vado via soddisfatta e anche forse un po' con nostalgia. Vabbè, domani mi troverò un'altra squadra. Sottomarini, ringrazio molto, naturalmente il capo dei sottomarini, Michael che è giù di là, Guido che va bene, Ravenna, le mie delizie, le mie delizie sono state veramente eccetera. Colucci, Gianni, no, volevo dire veramente tutti. E naturalmente davanti a tutti metterò l'uomo che mi ha costretto a venire qui, no, no, insomma il giovanotto, il giovanotto che mi ha parlato qui. Per cui, insomma, vi ammiro molto e questo voglio dirvi che vado via, mentre avanza la scenografia, vado via con molta ammirazione. Molta ammirazione. Molta ammirazione e io, insomma, in qualche modo sono convinta che avete fatto un buon lavoro, ma al di là di questo, sono convinta che li farete comunque dei buoni lavori. Spero di riuscire a vederne un po'. Ciao, allora. Grazie. 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 Grazie.